La nuova avventura di Mattia Bucci, pilota abruzzese di kart da quando aveva sei anni, a luglio ne ha compiuti 14 e le sue ottime prestazioni, sempre nella top 10 delle varie corse, lo hanno posto all'attenzione della Minardi Management, con cui nel 2019 ha sottoscritto un contratto. Il 2022, dopo i primi test ufficiali in pista, sarà l'anno del suo esordio in Formula 4, come dire, un sogno che si avvera. Mattia, dal kart alla monoposto, un bel salto? Sì, un gran bel salto, soprattutto sulla parte di guida e anche tanto sulla velocità. Il numero 21 l'hai scelto tu? Il numero a cui sono indirizzato, perché compone uno dei numeri più importanti per me, ovvero la nascita di mia sorella, di mio fratello e comunque il 2 che sarebbe il 28, ovvero la mia. Senti Mattia, quando materialmente comincerai con i primi test su questa monoposto? Allora, i primi test saranno a gennaio, dopo aver compiuto 14 anni e 6 mesi e subito dopo un test e inizieremo con i simulatori. Emozione, timore, quali sono i tuoi sentimenti? Beh, allora, prima ho visto quando la scaricavano e sinceramente prima che aprissero il portellone ero molto teso perché non sapevo cosa potevo trovare dentro quel camion. Poi appena l'hanno aperto, diciamo, si può dire che mi è esplosò il cuore perché comunque ho visto quanto era bella, quanto era grande e quindi niente, non vedo l'ora di provarla. Eri nell'orbita Minardi già da qualche tempo, però quando ti si è presentata questa opportunità che cosa ti ha detto l'amministratore delegato Giovanni Minardi? Eh, allora, quando appunto ci hanno proposto questa cosa subito abbiamo colto il primo terreno che passava perché nel mondo del motorsport ne è solo uno e quindi lo devi cogliere bene e al momento giusto. L'ultima, vuoi fare un ringraziamento, un pensiero particolare per qualcuno? Sì, vorrei ringraziare innanzitutto la mia famiglia che mi sostiene e fa tanti sacrifici per me, subito dopo la Minardi Management che mi appoggia da quasi due anni e grazie a loro siamo riusciti a fare molti salti in avanti e niente questo. Così su Mattia l'amministratore delegato Giovanni Minardi. Io quando ho visto Mattia sono rimasto subito sorpreso di quello che erano le sue doti velocistiche e lo stile di guida che aveva, che è uno stile molto aggressivo come piace a me nel senso che non ha paura di nulla e in questo sport qui è molto importante perché comunque è uno sport pericoloso e quindi devi essere sereno e tranquillo di poter fare qualsiasi cosa ti viene in mente di fare. E ripeto, mi è piaciuto talmente tanto che dopo ho parlato con il padre fino ad arrivare finalmente a una sigla di contratto di management e con quello abbiamo incominciato a gestirgli la carriera per cercare di portarlo a diventare un pilota professionista nel minor tempo possibile. La Formula 1 oggi le piace più o meno di prima quando magari la Minardi era impegnata direttamente fino credo all'inizio del 2000, 2005. 2005 sì, ma la Formula 1 è cambiata tantissimo da quando c'eravamo noi. Diciamo che se guardiamo il lato sportivo, quindi le gare se per sé erano sicuramente più belle ai tempi nostri, anche perché c'erano molte più macchine, era più difficile arrivare a punti e quindi era una lotta veramente all'ultimo sangue ogni domenica che si scendeva in pista. Oggi è diventato uno sport per pochi, perché sono tutti quanti case automobilistiche o quasi e quindi è diventato una sorta di business più che di sport. Quindi le gare sono diventate un pochettino più noiose. Chiaramente questo per il pubblico normale, poi se da detti ai lavori noi che guardiamo tempi sul giro, tutta una serie di strategie e cose è comunque interessante perché è diventata molto più complessa sotto quel punto di vista lì. Speriamo che le nuove regole che entrano in vigore il prossimo anno ci diano un po' più di spettacolo. Ce l'hanno promesso, speriamo che sia così.